ciao innanzitutto mi scuso perché teoricamente ho detto che sul canadano va a uscire questo video ieri e uscirà oggi 3 gennaio 2023 e 24 volevo solo dirvi grazie immensamente 100 volte grazie perché il 28 di dicembre del 2023 alle 23.58 mentre ero in giro con gli app per marco siamo arrivati alla modica cifra i 100 iscritti 100 e non sapete sono rimasto due ore a dire 100 100 100 io incredulo ero perché vedendo i numeri che avevo fatto quest'anno dicevo non c'erano mai impossibile vedendo altre che ci avevano fatta io no cominciavo a deprimermi però al suo tempo sto pensando che non devo stare troppo lì a pensare ai numeri però poi mi dico anche che 100 è un grande traguardo 100 iscritti il primo numero a tre cifre su youtube su tiktok ho raggiunto ormai tre anni fa probabilmente su instagram nel 2020 ma su youtube no perché il percorso youtube è inizialmente per caso perché io inizialmente facevo i video ho cominciato a fare i video gli gtv su instagram appunto ma nel momento stesso in cui instagram ha vietato di postare video più lunghi di un minuto e mezzo sotto spostare su questa piattaforma e inizialmente tre anni fa non ero quei tanto convinto a fare chissà che su questa piattaforma però condividere le mie passioni che sono il calcio la politica l'attualità i miei pareri i miei pensieri me stesso però pian piano poi mi son detto tanto vale che visto che ci metto tanto in impegno proviamoci a vedere cosa facciamo fare che poi c'è da dire che tutti i più grandi youtuber italiani quelli che almeno seguo io che si chiamano yakidale che si chiamano pavij che si chiamano i pia lasvu si chiamano riccardo d'os e rimoldigno il masseo stesso anche ma è gabbo man il buon seakwolf c'è anche a considerarne altri che in realtà non seguono molto attentamente come sono magari che ne so un ciccio gamer un mike shawkshaw un il vostro caro dexter tutti prima e poi per arrivare al loro traguardo di un milione centomila iscritti michele molte è un altro nome molto attuale in voga tutti prima e alla della giusta altro non tanto per citare alcuni z w jackson sono quelli che li seguo principalmente di più su youtube tutti per arrivare a un milione di iscritti 100 mila iscritti 700 mila iscritti 500 mila iscritti cosa hanno fatto? sono partiti dal basso con umiltà impegno facendo video su video su video ogni giorno con costanza con dedizione e con solo il cassetto che era quello di arrivare in alto loro ci hanno fatta io non pretendo magari arrivare ai loro livelli oppure chi lo sa un giorno potrebbe anche accadere io pretendo semplicemente da me stesso quello che voglio e il mio piacere è semplicemente condividere me stesso condividere le mie passioni c'è nel film, c'è nel tv, il mondo marvel, la politica, l'attualità, il calcio, lo sport in generale e semplicemente se riuscirò magari un giorno a creare qualcosa di bello sarà soltanto una bella cosa vorrei quest'anno, sarà una cosa che dirò anche nei video dedicato agli obiettivi quest'anno youtubistico o youtube da youtuber insomma quel che è portarvi altri contenuti poi finalmente i miei vlog in realtà un obiettivo sarà raggiunto perché un vlog sono riuscito a pubblicare nel 2023 ma spero di pubblicare tanti altri che sono rimasti inietro da dei mesi scorsi ma soprattutto grazie per questo enorme traguardo che abbiamo raggiunto assieme voi che siamo in 100 e mi diranno tanti 100 cosa sono? niente rispetto ai 1000, 100.000, 10.000, a un milione è vero, sono 4.0 in meno del milione sono 3.0 in meno del 100.000 però tutti sono fatti a quello, vedevo e vedo ogni tanto spesso il video di Giacchidale quando arrivò ai suoi 100 iscritti su youtube o quando arrivò anche al 1000, lo vedevo esaltato anche lui e ora vedere che è arrivato a 2 milioni fa capire quanto ci sia un percorso dietro ciascuno di loro che non sono soltanto dei youtuber, dei content creator ma sono persone come noi che hanno provato a portare avanti il loro sogno e se il mio sogno potrebbe essere che diventare uno youtuber ci vuole tanta costanza edizione ma soprattutto vorrei ricordare a tutti che se uno diventa youtuber non è vero che piattegli il video e poi diventi famoso facendo visual su visual, eh no, purtroppo non funziona così come dicevo l'anno scorso esiste un video che si chiama proprio il lavoro del content creator molti, molti content creator perché devono fare i video come han detto Riccardo Rosi, come ha detto Michele Molteni, come ha detto Aldera Giusta come han detto tanti, anche Seekwolf e Gabomen devono prima pensare l'idea e poi metterla giù e non si sa mai perché in questo mondo non tende per tanta fortuna e per arrivare a un traguardo ci vuole anche un peccico di quella ma soprattutto bisogna fare le cose per bene io penso che nel 2020, 23, che sono arrivato in mente a 100 iscritti e devo dire che ho cominciato a fare le cose per bene ho guardato un po' i video e ho visto alcune statistiche che vi racconterò nei prossimi video, nei prossimi giorni perché penso che nei prossimi giorni usciranno 3 video in particolare e... alla quale tengo parecchio quindi se volete seguirmi sarò felice di vedervi tra le persone che avrete visto quei video lì io non posso fare altro che dirvi 100 volte grazie a voi 100 persone che vi siete iscritte alcune le ho obbligate o invitate io ma l'hanno fatto e spero non ci si abbia questa scelta non so che traguardo ci aspettano in questo nuovo anno gli obiettivi ovviamente mi perfisserò ma adesso vediamo come andrà avanti l'anno perché è giusto metterli però è giusto anche non so sperarci ma è giusto anche andare oltre gli obiettivi nel senso tu fai il tuo lavoro come diceva Seekwolf nel video di ieri che lui diceva che aveva ansia però poi ha pensato che mettere si ansia su questi video non ti permette di fare il tuo lavoro per bene e tranquillo quindi non mi metterò l'ansia raggiungo un to' di iscritti semplicemente faccio il mio lavoro possibilmente se accadrà che raggiungerò un to' di iscritti e sarò semplicemente felice chissà magari un giorno non so se presto o tardi arriveremo anche a quattro cifre non si sa però tutti ho visto che non sono l'unico youtuber e l'unica persona su youtube che sta provando questo percorso hanno iniziato dalle basi ho visto molti altri che hanno portato con sé le proprie passioni che sono magari la palestra magari le tecnologie magari che non so le proprie gite in bicicletta magari semplicemente altri contenuti di calcio e anche loro stanno provando a portare questi contenuti e oh perché tanto non vai a provarci? voi vedete sono un po' vecchio vero? ma Michele Molteni diceva poco fa nel 2018 ha cominciato a fare video e se ora ha 32 anni ha cominciato a 26 non vuol dire per forza che iniziare da giovane come ha fatto che so Dose come ha fatto ZV come ha fatto Idea Giusta come ha fatto Rimoldigno ma prima o poi c'era a cominciare io ho cominciato per caso perché volevo portare i miei contenuti su Instagram però ho dovuto spostarmi per comodità qua su youtube e non penso sia stata una scelta brutta forse sia stata una delle migliori grazie a queste 100 persone veramente tutti dicono 100 persone sono poche ma poi io me le immagino 100 persone sono 3 classi o 4 delle superiori delle medie delle elementari e 100 persone non sono poche cioè una comunità di 100 persone vuol dire che sono già 100 persone che hanno voluto seguirmi e regalarmi un sogno soprattutto a quelle 4 persone che si sono iscritte negli ultimi giorni dell'anno le ringrazio infinitamente per avermi regalato questo sogno ho visto che negli ultimi 90 giorni ho raggiunto 16 iscritti nuovi questo dirò che probabilmente vuol dire che sto facendo un buon lavoro e quindi continuerò da lì grazie probabilmente prima di questo video ne uscirà uno show in cui ero impazzito di gioia perché ero arrivato ai 100 non so altro che dirvi veramente grazie dal fronte del mio cuore può essere strano che mi stia emozionando però mai pensato di farlo youtube perché guardavo da persona che lo guarda e basta però forse le prime persone che ho guardato che mi hanno ispirato sono state Tony Ipens che l'ho conosciuto nel 2019 su youtube e Gabo Messi che l'ho conosciuto nel 2017 su youtube poi pian piano ho cominciato a seguire più la piattaforma e devo anche ammettere che ci sono personaggi come che non so i PLSV Pierino in particolare che io gli chiesi un consiglio su come crescere su youtube e mi dissero ma sposa su altre piattaforme tipo tiktok e twitch che lì guadagni meglio sì però a questo tempo mi piace condividere di più le mie passioni con dei video è semplicemente per me il sogno è appena cominciato non so quanto lo porterò avanti però ci vuole dedizione e costanza e cercherò di portarle avanti perché come dice un santo la gente come noi non molla mai e semplicemente cercherò di farvi riflettere farvi ripensare intrattenervi magari divertire anche e semplicemente grazie a voi che vi siete fidati e affidati a me basta non ce l'ho altro da dire se avrò altro lo aggiungerò ma penso di essere stato abbastanza chiaro sul fatto che è vero ho 24 anni ma i sogni ci sono per tutti mai questo qui era il mio sogno da piccolo però devo anche ammettere che wow adesso cresceremo pian pian presumo però un passo alla volta è uno dei miei moti che io uso dal 2017 2015 2016 e pian piano si crescerò vedremo dove arriveremo grazie a tutti prossimi telegiorni saranno tre video importanti sempre su questo tema qua di 100 iscritti tipo un in realtà di 100 iscritti e niente non so se si si fa così il cuore si penso di sì così ecco così grazie grazie presumo che questa qui sarà anche ehm come il caso si fa ehm la copertina del video 100 volte grazie come 100 persone siete voi basta non ci credo più l'anno scorso invece tac io una sera siamo riusciti a arrivarci in mele 24 ore 4 persone mi hanno regalato un sogno un piccolo sogno da aggiungere a un piccolo cassetto che potrebbe diventare un presto grande non è una questione di soldi per quanto cominceremo a guadagnare se arriveremo a guadagnarne ma è una questione di contenuti e mi piace portarli vedremo wow grazie ragazzi a presto con nuovi video the show must go on e dai roma sempre e la gente come noi non la vai e basta così a presto con nuovi contenuti molto presto ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti